Vi presento Byron e Giorgio, che sono venuti gentilmente a suonare con me. Iniziamo con il concerto per due violini di Antonio Vivaldi. 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 Vivaldi è scritto in tre movimenti. Questo era il primo, Allegro. Adesso c'è Largo e Spiritoso. Il concerto per due violini di Antonio Vivaldi. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti